Ci sono volute due pesanti gru questa mattina per raddrizzare un tir a pieno carico di un'azienda locale che si è coricato sul fianco destro poco dopo le 8 a Pesaro nella rotatoria di Vismara lungo il tratto urbano della strada statale 16 mentre era diretto a Fano. Il suo autista, un rumeno di 43 anni che non ha riportato conseguenze fisiche nell'incidente, ha perso il controllo del tir per lo spostamento del carico nel cassone, pesanti pannelli in legno per mobili percorrendo la rotatoria. Fortunatamente al momento del ribartamento non c'erano altri utenti della strada nella rotatoria che sarebbero potuti rimanere schiacciati dal pesante auto articolato, inevitabili data l'ora di intenso traffico i rallentamenti. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la polizia locale assieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria. Nella giornata però sequenza di incidenti di varie entità anche nel territorio fanese. Alle 11 e 40 a Ponte Sasso lungo la strada statale 16 al chilometro 260 nei pressi di un distributore di carbonante tamponamento che ha visto coinvolti tre veicoli. Una lancia Y condotta da una donna di Mondolfo di 69 anni mentre era ferma ad un contagio pedonale per far attraversare la strada ad alcune persone è stata tamponata da una Passat che procedeva anch'essa in direzione Marotta. La conducente, una residente di Monteporzio di 28 anni, per l'urto ha invaso in parte la corsia opposta dove in quel momento sopraggiungevano a Ford con a bordo due coniugi cinquantenni diretti a Fano di Perugia. L'urto tra i due veicoli è stato inevitabile. Sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari sia la conducente della Passat in stato interessante, trasportata per controlli al Santa Croce di Fano, come anche i due coniugi perugini per lievi entità. Sul posto anche i vigi del fuoco di Fano e la polizia stradale fanese. Notevoli le ripercussioni sulla viabilità dove i rallentamenti sono perdurati per oltre un'ora. Altri due incidenti di lievi entità si sono verificati nel primo pomeriggio. Il primo nella rotatoria del Pincio coinvolte un'auto, una Opel proveniente da Viale Gramsci condotta da una 48enne che nel percorrere la rotatoria ha creato una turbativa causando la caduta di uno scooter proveniente da Viale Buozzi con a bordo una fanese di 38 anni che ha riportato ferite lievi. Il secondo alle 14.20 lungo la strada provinciale 16 Orcianense poco prima del quartiere della Tombaccia in direzione Montemare dove una fiesta condotta da una 22enne di San Costanzo ha tamponato, facendola finire contro il guardrail, una panda con a bordo una donna residente a Mondavio di 54 anni. In entrambi i sinistri per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Fano.